Ancora rifiuti delle strade di Torre del Greco. A giorni quasi alterni i cumuli di immondizia tornano ad apparire anche nelle vie più centrali. Abbiamo chiesto ai torresi le loro opinioni sulla pulizia della città. Situazione rifiuti a Torre del Greco, lei come sta trovando la città in questi giorni? Lascia molto desiderare comunque. Io abito, non abito qui in zona, abito via Tortora, zona Ponte della Gatta più o meno. Nella nostra strada c'è una discarica comunque abusiva. In pratica è una stradina stretta via Tortora e hanno cominciato a buttare un sacchetto. Da lì è iniziato divani, sedie, armadi. In pratica non si può neanche più passare con la macchina. Più buttano rifiuti più c'è gente che va comunque a buttare rifiuti. Abbiamo chiamato anche in comune, abbiamo cercato di contattare, ma non viene nessuno a togliere via quella roba. Sempre lì. Altre zone della periferia in cui si concentrano questi tipi di problematiche? Sì, c'è via Lavatroia che è la strada parallela. Comunque anche lì c'è una discarica. c'è una strada nuova in pratica che hanno fatto, che porta poi giù la litoranea. C'è il ponte dove ci buttano di tutto. Basterebbe un po' di buonsenso, anche se la gente non riesce ancora a capire che deve fare la differenziata, perché noi la facciamo e vengono comunque puntualmente a ritirare. Però poi i rifiuti indifferenziati rimangono sempre lì e continuano a mucchiarsi. Vengono alcuni giorni che si vedono parecchi cumuli e alcuni giorni poi vedi tutto pulito. Non so da che dipende, com'è questa situazione. Ha qualcosa in particolare da denunciare che ha avuto modo di vedere in questi giorni? Sì, diciamo così, i rifiuti tipo mobili, frigoriferi, rimangono parecchie ore, parecchi giorni sulla strada. Non vedo un servizio programmato, fare una domanda, togliere, non togliere. Ho visto alcune volte sette, otto, dieci giorni che rimangono là. Come sta trovando la città in questi giorni? Vabbè, diciamo che negli ultimi giorni è abbastanza disagiata come situazione, quindi al di là del carnevale, che comunque ha lasciato i suoi residui e i suoi trascorsi, è una situazione abbastanza tragica, secondo me. Viene gestita malissimo, non vedo neanche chi di competenza, quindi spazzini o altri che dovrebbero fare il loro lavoro e diciamo che questa è una cosa abbastanza pesante, secondo me. È una situazione che va avanti ormai da decenni, però non se ne vede ancora la soluzione. In quale zone della città trova maggiori cumuli di spazzatura? Mi meraviglio che al centro sia una situazione abbastanza, non dico la più disagiata, però è abbastanza grave, dove ho riscontrato i maggiori cumuli e soprattutto nella zona di via Circonvallazione, oppure quelle zone a ridosso della stessa strada, anche in zone in cui non dovrebbero essere depositati rifiuti, quindi diciamo che è un po' un problema generalizzato. Crede che le responsabilità siano più dei cittadini o dell'amministrazione? Diciamo che l'amministrazione ha delle falle evidenti, quindi sicuramente hanno delle difficoltà nella gestione, quindi dell'appalto, eccetera, però i cittadini da sempre non hanno quel senso civico che dovrebbero avere. Bisognerebbe forse fare uno sforzo maggiore anche nel controllare le modalità attraverso le quali viene svolto questo servizio e quindi bisognerebbe verificare la correttezza nell'esecuzione di quelle prestazioni che sono state indicate nel contratto che lega l'operatore economico con l'amministrazione. Forse questo non c'è, nessuno va in giro a controllare, a fare le dovute contestazioni. Io da cittadina di questo meraviglioso paese sono tanto dispiaciuta perché è una bellezza geografica naturale che purtroppo agli occhi di tutti mostra questa pecca per quanto riguarda proprio l'ambiente e la pulizia della città. I cassonetti sono accantonati, sono ribaltati per il maltempo e purtroppo adesso vediamo anche le conseguenze del carnevale per le strade e spesso ci sono accumuli anche sotto le nostre stesse case di questi rifiuti che non vengono raccolti. Crede che le responsabilità siano più dei cittadini o dell'amministrazione? Credo che ci sia una responsabilità comune sia da parte dei cittadini che probabilmente non rispettano la differenziata ancora oggi e non rispettano magari neanche i turni di deposito e probabilmente anche da parte di chi dovrebbe gestire questa cosa nel miglior modo possibile.